Il vento delle scorse settimane mi ha tenuto a sveglia tutte le notti. Immagino che ogni casa qui abbia gli stessi fantasmi. Mamma! Brian! È rimasto tutto come era una volta. È stato tanto tempo fa, non ci penserei più se fossi in te. Abbandoni una terra solo per scoprire che non te ne libererai mai. Brian è a casa. C'è stata una denuncia da parte di una giovane donna. Brian dice che era a casa con te quella notte. È così. Era a casa, sì? Sappiamo tutte e due che è una bugia. È un'accusa molto grave. Hai resistito per quanto tempo? Riconosco il tratto di famiglia. I maschi sono maschi. C'era qualcun altro in giro? Te lo ricordi? Avete tutti chiuso gli occhi. Per chi mi hai preso, mamma? Non provi niente, non hai un cuore! Tu hai questa immagine terribile di me! È come se il mondo si fosse capovolto. Per chi? Uff! Grazie a tutti.